Quanto vale il tuo tempo? Domanda importante, stra-importante, soprattutto oggi che ci muoviamo, corriamo, andiamo di qua e di là. Ora, la cosa bella è che essendo il tuo tempo su questa terra limitato, te l'ho dovuto dire così, puoi sapere quanto vale e per sapere quanto vale ti introduco un concetto abbastanza importante, anche un curioso, si chiama costo dell'opportunità. Come credo ben saprai, tutti cerchiamo di pagare quello che vogliamo il meno possibile, lo chiamiamo affare, ma in realtà non è un affare, è un'idiozia, comunque. Immaginati che vuoi partire e passi due ore di tempo a cercare il volo meno costoso e alla fine risparmi di 10 euro. Ok, in quel momento tu vali 5 euro l'ora, perché il valore del tuo tempo è calcolato in relazione tra il tempo stesso e il risparmio. Ti sembra normale? Ti sembra normale rincorrere ossessivamente il risparmio? Sì, ma quando diventa una malattia no. Per farti capire cosa c'è di poco normale ti faccio un altro esempio. Immaginati che ti faccio lavorare, ad esempio a un bar, per 5 euro l'ora. Ecco, adesso forse non è più così tanto normale, eh? Anzi sembra proprio una miseria. Ecco, proprio così, quando cerchi di risparmiare a tutti i costi, il messaggio energetico che stai inviando è proprio questo. Due semplici parole. Valgo Poco Yeah, yeah.